La montagna nera di Antonio II La montagna nera è appena dietro il paese, nel punto dove tramonta il sole. Di giorno dorme, rivestita dal blu cobalto dei pini. Di notte sembra quasi osservare tutto ciò che accade in questo piccolo borgo di provincia, farlo proprio e custodirlo, tenendo tutti all'oscuro di ciò che succede al di là della sua cresta. La mia casa è la penultima del paese. Apre il sentiero per la scalata del macigno, ma la terra abbattuta non porta fin sopra la vetta. Arriva fino al cosiddetto belvedere, situato poco più in basso. Un piano di ciottoli e cemento con due panchine di pietra. Nessuno sale mai in cima, perché il fitto bosco che separa il belvedere dalla cresta è impervio, senza sentiero, e dimora di antiche leggende contadine. L'ultima casa, quella appena dopo la mia, è vuota adesso. Buia e malfatta come le vite di chi vi ha abitato. Ci viveva la vicina di mia nonna. Si chiamava Maria. Era solita salutarmi da dietro le inferriate, senza mai farsi vedere al di là della soglia del portone. Ogni volta che uscivo di casa, appena superato il cancello, sentivo i suoi occhi addosso. Sapevo che era là, nella penombra della stanza, con lo sguardo perennemente puntato sulla strada. Alle volte faceva finta di niente, come quando io e Francesco discutevamo dei fatti nostri, e lei ascoltava tutto, cercando di capirne il senso. Moriva dalla voglia di raccontare a mia madre qualunque nostro segreto, ma se l'avesse fatto, avremmo mangiato la foglia e non avrebbe più goduto di quello spettacolo. Il marito di Maria si chiamava Guerino. Era talmente tirchio che la casa non era mai stata fatta intonacare estremamente. Aveva messo le grate alle finestre per paura che gli portassero via i contanti che gelosamente custodiva sotto il classico mattone e passava alla moglie poche lire a settimana per la spesa necessaria al mantenimento della famiglia. La poveraccia aveva così sacrificato un intero giardino per ricavarne un orto nel quale coltivare verdura da mangiare. I fatti erano tutti magrissimi in famiglia. Mia madre diceva che facevano il brodo due volte con la stessa verdura. I figli, uno di cui non ricordo il nome e l'altro di nome Pietro scapparono rispettivamente a Milano e a Roma appena dopo gli studi esasperati da quest'estrema vita contadina nel periodo storico in cui la penisola italiana iniziava la scoperta del benessere. Maria odiava suo marito ma benché fosse cosa nota non lo ammise mai dinnanzi a nessuno. Quando Guerino fu colto da un valore morì e si leggeva in viso che la perdita le fu quasi gradita. Alzò finalmente il tanto agognato mattone e mise mano ai risparmi di una vita. Iniziò a godersi la libertà fino allora rinchiuta in una gabbia non intonacata. Mia nonna raccontava perfino che non ricasasse la notte con suetutine di certo strana per una donna di quasi settant'anni. Quella libertà estrema guadagnata così da un giorno all'altro la portò molto velocemente ad impazzire. C'è chi dice che l'Alzheimer l'aspettasse nascosto in un angolo. Alcuni dei suoi parenti più stretti ne avevano già sofferto e ne erano morti. E anche lei in poco tempo iniziò a non ricordare il proprio nome a vagare da sola per le strade del paese gridando frasi sconnesse senza ragione. La gente continuava ad intimare ai figli di tornare per prendersi cura della madre malata raccontando episodi anche piuttosto gravi che lasciavano intendere che non poteva più essere lasciata da sola. Ma quelli erano indafferati in uno studio legale e medico ingabbiati da mogli acide e corrotte che sempre come diceva mia nonna non erano capaci di attaccare un bottone antico metri di giudizio del grado di rispettabilità femminile in piccoli centri rurali come questo. Dopo l'ennesimo episodio se non ricordo male una strana e grottesca lite nell'unico bar del paese in cui Maria si gettò a terra denudandosi e gridando come un ossesso Pietro tornò finalmente in paese. non trovò nessuno in casa ma era chiaro che la madre avesse superato limiti invalicabili della ragione accumulando in casa immondizia di ogni genere. Perlustrarono la zona le campagne le guole a sud della valle e guardarono il fiume. Per quasi tre giorni non si seppe nulla della povera Maria e di quel che rimaneva del suo corpo senza un cervello. Al tramonto del terzo giorno la vecchia che tiene il bar giù in piazza vide una figura oscura e malmessa a zoppicare in un vicolo. Quasi lasciò cadere la bottiglia di sambuca dal tavolo di plastica quando si accorse che Maria vestita di stracci avanzava verso di lei. La montagna nera continuava a ripetere. La chiusero in un ospizio. Mia nonna mi chiese di accompagnarla per farle visita. Don Carlo ci accolse piuttosto perplesso e in un momento di solitudine mi ringhiò a mezza bocca «Ma perché l'hai portata qui?» «Perché me l'ha chiesto» risposi. «Che diavolo ne sapevo di come stava?» Nella stanza Maria dormiva da sola su un letto rinforzato assicurato da imbraghi di cuoio imbottito. Farfugliava sotto voce quella che sembrava essere una preghiera. Avvicinandomi capì che era una supplica anche se in fondo non diceva nulla di sensato. Il polso era sottile di un colore grigio spento. La pelle del collo talmente cadente che il pomo ad Adamo sembrava dovesse schizzare sul soffitto da un momento all'altro. Mia nonna volle uscire. L'infermiera la condusse lentamente verso il corridoio mentre lei piangeva e cadenzava il passo col bastone. Uscendo anche l'infermiera mi guardò severa quasi fosse stata colpa mia se quella vecchia fosse ridotta in quel modo. L'aria profumava di fiori. Maria sembrava che fosse già morta. Io restai fermo completamente soggiogato dalla crudeltà della vita. Era orribile ed era la cosa più naturale di sempre. Mi venne da pensare quanto sia inutile condannare la violenza in quanto l'unica cosa veramente sincera in tutto il creato. Poi Maria smise di far fugliare e si strinse in un risucchio di dolore tirando sui legacci contro cui nulla poteva viste le dimensioni del suo braccio. Ricadde sul cuscino in silenzio si volta verso di me guardandomi negli occhi la montagna nera disse ed io feci un passo indietro. Pietro ora torna due volte l'anno per aereare la casa e cercare di venderla. Mi chiama ancora il tedesco per via degli occhi azzurri e dei capelli biondi. Sua moglie mi evita perché è un po' bigotta e considera tutti quelli del paese gretti e ignoranti zotticoni ma davanti fa buon viso a tutti complimentandosi per i raccolti e giardini ben curati. A me non interessa quando non sono in paese entro nel recinto per potare il pesco al loro ritorno in estate lo trovano fiorito e pronto a produrre. Fenomenale questo pesco continua a metter frutta senza che nessuno lo tocchi questo è tutto l'amore che gli ha dato la mamma. Io e Francesco ce ne stiamo seduti nel portico a fumare in silenzio e guardargli cogliere frutta in un giardino abbandonato. Pensiamo alle lacrime raccolte da Maria per irrigare quell'albero perché il marito razionava l'acqua aspettando che piovesse. Pensiamo all'ignoranza che ti fa attaccare alle piccole cose materiali e la reputiamo sempre meglio della conoscenza che invece crea dai effimeri e bugiardi. Pensiamo e guardiamo la montagna a controllare la valle. Vallo a capire che si sono dette lei e Maria.